ciao a tutti è appena arrivato questo nuovo pirografo si tratta di un brand peter mini è sempre della stessa azienda del brand peter junior quindi molto sicuro affidabile fatto in germania molto simile anche come aspetto però è molto più semplice questo è adatto ai bambini è molto sicuro non è pericoloso come vedete le caratteristiche sono 20 watt per una temperatura tra i 650 e 450 gradi è molto semplice da usare un impugnatura ergonomica comoda con il rivestimento in sughero quindi non ci si scotta le punte in dotazione sono queste quattro si inseriscono semplicemente avvitando con il cacciavite già incluso nella confezione si tratta di una punta piatta come quella che ho montato in questo momento due punte arrotondate una un po più fine una un po più grossa e poi la punta d'ago ecco qui vediamo che questa è piatta anche con questo pirografo in dotazione ci sono il cacciavite la spazzolina in ottone per pulire le punte e il supportino per il manipolo sono molto semplici tratta semplicemente di un filo metallico che viene inserito e che si scalda con il passaggio della corrente non c'è la regolazione della temperatura e questo fa sì che il costo di questo pirografo sia molto inferiore rispetto al brand peter junior ecco qui vediamo nel dettaglio le quattro punte in dotazione e questa è la centralina elettrica con questo pirografo si riescono comunque a fare tantissime cose utilizzarlo su tutti i tipi di legno anche legni molto duri e stagionati se volete saperne di più l'interno di questo pirografo per i consigli di base vi aspetto sul nostro sito elettronicadidattica.com per questo pirografo o altri che avete già visto in altri video ciao a tutti a presto per i prossimi video